Pubblicato per la prima volta nel 1937, l'Hobbit è riconosciuto da tutti come il primo capitolo del Signore degli Anelli. I protagonisti della vicenda sono per l'appunto gli Hobbit, piccoli esseri che vivono con semplicità, spensieratezza e saggezza in un arcadico scenario di campagna, la Contea. La serena esistenza degli Hobbit viene scossa quando il mago Gandalf e 13 Nani si presentano improvvisamente alla porta dell'ignaro Bilbo Baggins e lo trascinano in un'avventura senza precedenti. Il miglior modo, a mio modesto avviso, per avvicinarsi a Tolkien, una fiaba meravigliosa ed eterna.